Salve ragazzi e bentornati su Quedus Server Trash Allora, vorrei, anzi mi piacerebbe moltissimo Dare, no, lo strife, vado di questo E poi provo con il fuci, con il... quello, no? C'è di buono che ho capito una cosa importantissima Cioè, la prima fase non è tanto importante chi vince Ma è importante chi trova le risorse per primo E quindi io... questa è la prima volta che la faccio Non ho... Aspetta, aspetta, non ho idea di dove sia Dove siete? Prendi il denaro Via, via Ma che cazzo... Ma vaffanculo, va Non lo dovevo fare Però mi sono lasciato prendere un po' dal... Dal panico Eh, va bene così Eh, vediamo, 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 vediamo E quindi... nada Sono molto curioso di vedere se la recupero questa No, infatti abbiamo fatto schifo tutti Però, vabbè, poco importa Perché Fenix è dall'altra parte Ci ho giocato l'altra volta con la partita del Fenix Ah, infatti mi ha segato a me No, non mi ha segato a me Però, devo utilizzare la sua tattica La tattica del... Sparo tutto... faccio tutto in pistolina Perché mi diverto così Adesso potete rifornirvi E infatti vado così E poi che altro? Mobilità, forse Ok E poi si parte andando sempre in quella direzione lì Ovvero la direzione della voglia di vivere Stematrofi, filo spinato Che si inservano a una sega Vabbè Voglio provare a... A farmela... Stealth, fondamentalmente Cazzo, ma... Portate i soldi al punto di recupero Come si mette... Il... 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 Il silenziatore Come si mette il silenziatore? Ok, state attenti Perché io ho solo la pistolina E mi piacerebbe... Insomma, in qualche modo Aspetta, 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 aspetta Già l'ho vista Bravo Come l'avevo già vista io sto film, eh Ok Wow Buono La mia pistola... La pistolina è fortissima Anche questo è stato fortissimo, credo L'ha segato Ok Mamma mia C'ho sta pistolina che veramente regala soddisfazione Vai E... Mobilità Ok Voglio... Voglio andare in questa direzione Voglio andare nella direzione Che ho visto andare Il... Il mio precedente amico E adesso nemico Che sta sempre in testa Anche perché È bene imparare da... Da queste persone qua E quindi devo... Devo fare attenzione Buono E qua ce ne dovrebbe essere un altro In su Cazzo Cazzo Il bottino è nostro Procedere alla zona di recupero Ho bisogno di aiuto Ho bisogno di un sacco di aiuto Oh oh No Cazzo Eh se fossi vivo Se fossi stato vivo Potevo... Potevo segarli Male male Va bene Va bene Non fa niente Ah guarda questo Come cazzo Mi ha fatto la scala Duster Ha fatto una bella giocata Ah Inversione di parti Ok Allora UAV di disturbo Potenziamenti d'assalto Vai Tutti quanti i potenziamenti Ma sai che è? La vaffanculo Così non giro manco Ah Devo girare per... Per forza Per prendermi I kit medici Prendete i soldi Prima di loro Cazzo Sta roba qua E caspito Stanno Pazza Ti seguirò Non ho Via Via Merda No Dai Aiuto Zio Niente È andata malissimo Male male Questo che c'ha addirittura L'ha smontato pezzo pezzo Occhio Bomba No È suo Dai 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 Ma non c'hai tu i soldi vero? Ah ok Ok ma sei l'ultimo Quindi la stai camperando male No Dietro di te Uccidetevi Minchia Beh ma Sei stato un genio eh Perché gli voleva fare il girotto Non siete dei principianti Dovete fare di più Dai vabbè riproviamoci dai C'ho sta Sta cazzo di 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 pistoletta Vedi che non sono l'unico Usa la pistoletta eh C'è anche Fenix Potenzialmente di richiornizione Ma questo che cosa fa? Perché non ho idea di che cosa faccio Però lo prendo Vai 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 Dai 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 Si può fare un buon piazzamento Posso farlo un buon piazzamento Dai Posso aiutare la mia squadra a vincere questa volta Ci scommetto Portate i soldi al punto Questa sarà la mia partita Dedicata Qua non ci sono mai passato Bravo Nicola Cambi Cambi percorso proprio adesso Faffanculo Aspettate Ok buono Pento Non c'ho Non c'ho cure ragazzi Non c'ho cure Bisogno Di cure Cazzo le trovo Ah quattro versus uno Sono tutti miei Resta un solo nemico Completate l'opera Cazzo mi son cagato sotto Quattordici colpi Siamo a corto di vite Attenzione No Rialzami zio Rialzami Veloce Oh Ma mister ignoranza Son giù Mannaggia satana Meno male Andata bene Andata bene Poteva andare peggio Molto peggio di così Però Chi era che stava facendo gli Ah Fenix Fenix Sempre con la solita pistolina Guarda Questo riesce a fa Uno burdella Con poco Adesso potete rifornirvi Questo che cazzo è Pistola semiautomatica Vai Ho preso questo Che non ho idea di che sia Cioè veramente Ho preso tutto il kit mobilità Ma non ho idea di che cosa sia Potevo prendere una bomba Ma invece no Ho deciso di giocarmela così Ho bisogno assolutamente Però In questo caso Di medicina 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 Prendete i soldi prima di loro Possiamo farcela ragazzi Possiamo farcela Non vi preoccupate Vado su io C'è una super mobilità C'è una super mobilità Mazzò Di qua Che cazzo sei Abbiamo poche vite Non sprecatele Allora Porca merda Merda Hanno il bottino Intercettateli Ah Fuck Potevo essere l'ultima speranza Per la mia Pertuta banda Ma invece no Schiaffato Male Male Vabbè Ragazzi Sono test questi Che sto facendo Quindi Non prendete vera male Se non so giocare Sto imparando Andate al cesso Per un secondo E E Tutto Succede Ecco Io sono andato a Pisciare un attimo E non so Cosa fare Adesso Guardate Siamo tutti qui Ah Ah Perché mi stanno Ho vinto Senza aver fatto niente Bravi ragazzi Bravi Siete Bravissimi Buono Cerchiamo di capire Se nel prossimo round Posso essere Un po' Un po' più utile Però diciamo che ho fatto Eco perfetto Ogni acquisto è importante Allora Scegliete attentamente Fucili tattici Questa volta Io prenderò Cadenza Ma guarda Prendo uno Spitfire E E Faccio eco Ok Non ho Assolutamente Idea Di dove si possa Trovare Ehm Portate i soldi Al punto di recupero Ok Questo Per esempio Poi salgo qui Sicuramente ne trovo un altro Dai No Eccoli Vediamo un attimo Se qualcuno esce da qui E io riesco a Segarli No In tutto ciò Abbiamo i soldi Trovate il punto di recupero Merda La squadra nemica Sta finendo le vite Ok Abbiamo poche vite Non sprecate Dai dai Stiamo recuperando i soldi Restate in posizione Copritemi gente Copritemi Oh Yei Tatatatatatata Sono stato bravissimo Perché sono ultimo Ho fatto un obiettivo Di quelli potenti Qua la gente Perché io Sono pacifista Io Non ammazzo nessuno Io vado E vengo E prendo E rubo E me ne vado Perché gli ho dato Vendicatore per due Maledizione Non ho sparato un colpo Sì però vuoto Perché io sono pacifistico Cosa prendo? Questo e questo? E via Questi che sono? Non lo so Non lo so Anche mobilità Ho bisogno di mobilità Motilità Ok Ho bisogno di Trovare altri spunti Di questo genere Io non conosco questa mappa Per me Però conosco questo coso Minchia quanto cazzo Madonna mia che Non sono capace Non sono capace di sparare Vieni qua Subito Girati vai alla Porca mignotta Neutralizzato Fuoco di precisione nemico Sto per finire le vite Sto per finire i colpi E' diverso No no Chi ha stato? Chi ha stato? Ho arrestato Ho arrestato L'impossibile Ho arrestato Nooo l'ultimo Segalo 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 Vai 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 Segalo 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 Cazzo L'ultimo Chi è? Wildy I nemici sono Alla zona di recupero Con i soldi Oh Corri Bella Bravo Bravo Così ti voglio Incazzato Nero Fateli crollare Ah mamma mia Quanto stiamo andando Forte Firebreaker Ah ho utilizzato Un'altra arma No sempre con la pistolina Questo Ah è quello che mi ha segato Anche a me Tra le altre cose Però io questo No Si o no E' stato cattivissimo Naso rotto Ok Ce la possiamo fare Vai di motilità Muoviamoci E 360 Non compro Niente Buono Adesso dovrei Muovermi Molto più velocemente Perché sono sempre Penultimo Forse perché Il primo round Mi ha Mi ha davvero Debilitato Come persona E sarà Ecco la sinistra Buono Anche perché Ma Il bottino è nostro Se facessi questo Ragazzi Qualcuno che Mi dà supporto Tipo Ok Zona di estrazione È da questa parte Dove cazzo Devo passare Per Arrivare Alla zona Di estrazione Stiamo Recuperando In posizione Ah Ah Aiutami Aiutami Amico 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 Dai 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 No Amico Amico Potevamo Vargela Potevamo Vargela No Non perderle Amico Tutti morti Tutti giù No Amico Io ero lì Con te Potevamo Fare Grandi Cose Fuck Dai Manca l'ultima È È la vittoria Una sola Guarda Guarda che merdo Comunque tutti con la pistolina Guarda guarda Pappa Questo era il nostro però Perché io sono morto di Di cosa sono morto Il negozio è aperto Fate rifornimento Cosa altro potrei prendere Non è questa Ma no Per se sai che Potrebbe essere interessante questa E Questo Che non so a che serva Ma Va bene E Tanto Ce l'ho Niente 250 Mi mancano Spitfire Comunque c'è 50 colpi Non sono pochi Però È incontrollabile Certe volte Anzi Diciamo 99% Delle volte Lancio Hellstorm Autorizzazione Ruin Ah Ho sbagliato 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 Ah Aspetta Dove sono 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 Dai che c'ho la bomba Abbiamo i soldi Affanculo Me ne pregando io I soldi Dove Stanno per finire le vite Più da in culo Stronzi Stiamo recuperando i soldi Restate in posizione Un bonus A chi ammazza L'ultimo di loro Vai No Ce la posso fare Perché io Sono il migliore Ben fatto Oh Perfetto Beh dai Siamo andati Strabene Io ho evitato La battaglia Alla grande Ho fatto tipo What up Una mossa di Di quelle Pesantissime E niente No vabbè Non volevo bullarmi Ho fatto una partita di merda Però ho portato il risultato E quando si gioca in squadra È questo Che deve succedere Noi ci vediamo al prossimo episodio E Ah è figo sto gioco